Capitolo undici Ed avvenne, che quando ebbe finito di dar le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli, Gesù si partì di là, per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli, Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro? E Gesù rispondendo disse loro, Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Or, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni, Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide, stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la vita dinanzi a te. In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista. Però, il minimo, nel regno dei cieli, è maggiore di lui. Or, dai giorni di Giovanni Battista, fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza, ed i violenti se ne impadroniscono. Poiché tutti i profeti e la legge han profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, che gli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi, oda. Ma a chi assomiglierò io a questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridono ai loro compagni e dicono, vi abbiamo sonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio. Di fatti, è venuto Giovanni, non mangiando né bevendo, e dicono, ha un demonio. È venuto il figliuolo dell'uomo, mangiando e bevendo, e dicono, ecco, un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Allora, egli prese a rimproverare le città, nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazzin, guai a te, Bezaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite, con cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel tempo, Gesù prese a dire, Io ti rendo lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nì uno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nì uno conosce appieno il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo, ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime, poiché il mio giogo è dolce, e il mio carico è leggero.